L'inquinamento atmosferico sta aumentando sempre di più e tra le fasce più colpite ci sono soprattutto i bambini. Ecco come proteggerli. Ventilate bene la cucina quando state preparando del cibo, perché i gas e i fumi degli oli possono essere dannosi anche e soprattutto per i piccoli di casa. Fate ricircolare l'aria condizionata nella vostra macchina in modo da non aspirare aria inquinata dall'esterno. Spostarsi camminando permetterà a voi e ai vostri bambini di percorrere le zone meno inquinate. Fate in modo che i vostri bambini non stiano molto vicini al ciglio della strada, zona in cui i livelli di inquinamento sono più alti. I cammini interni possono essere molto inquinanti, non abusatene e ventilate la casa dopo averli usati. La maggior parte dei prodotti di pulizia per la casa rilascia gas, dunque usateli meno frequentemente. Fumare sia al chiuso che all'aperto fa depositare agenti inquinanti sui vestiti con cui i bimbi possono venire a contatto. Usare troppo spesso la macchina anche per viaggi brevi aumenta molto l'esposizione all'inquinamento. Potete farlo tramite delle apposite app da scaricare comodamente sul vostro smartphone. Più piccoli sono i bambini e più grande sarà su di loro l'impatto dell'inquinamento. Questo vale anche per gli anziani e gli asmatici.